Ciao a tutti ragazzi, sono Dami ed eccoci qui con un nuovo episodio su Minecraftito 47... 47... 48... 48esimo episodio, credo... Sì, credo... E... sto registrando subito dopo l'altro, quindi i suoni ovviamente non ci sono Molto bene Quindi io non ho preso un cacchio proprio dall'ultima volta che sono andato in miniera Niente, neanche un pezzo di ferro No, perfetto In questo episodio... Cosa facciamo? Non lo so Ci facciamo la stradina Facciamo la stradina Perfetto, facciamo la stradina Facciamo la bella strada Mi serve legno Sì, ho un po' di legno Perfetto Perfetto Tanto ci facciamo Prendiamo della pietra Tanto ce li facciamo in questi Anche se credevo già di averne No, neanche uno Perfetto Ne facciamo tanti Vabbè, facciamone Uno stack Ok, perfetto Per ora ci basteranno No, ovviamente no Questo non mi piace Aspetti anche che cresca Poi lo tagliamo di nuovo Quindi Allora Possiamo fare Che Di qui Si scende Fin lì Credo che ci arrivavate anche voi No, non facciamo così No No, no, no No, no Assolutamente No Però devo prendere Alcune foglie Ok Sette foglie Allora In questo episodio Come abbiamo detto Ci facciamo la stradina Perfetto E Avevo in mente Di farla fino al portale Farla Cercando di farla Abbastanza bella Sì Qui Come facciamo Vabbè, facciamo così E ci prendiamo sto pezzo Vieni qui No, cattivo Perfetto 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 No No Assolutamente no Perfetto Proprio niente Saliamo di qui E ci andiamo A prendere delle scale Che così almeno Diventa più bello E Non devo andare fino In mare Per arrivare Al livello No, dove sto andando Perfetto Siamo qua Scale Ah, ce li avevo Sti così Vabbè Meglio Così Così Ci esce Perfetto Dieci scale Dieci scale L'ho preso Credo Spero Ok 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 Sì Mi piace Mi piace Sì Sì Poi Di qui No Facciamo Magari così Questo via Sì Sì Più o meno Ok Ok Dobbiamo farci altre scale Ok Molto bene Ora Direi di Venire Più in qua Che brutto Che brutto Giocar senza suoni In minecraft Che brutto Facciamo così però Perché ho tolto quei pezzi Non lo so Però Va bene così Va bene così Questo dobbiamo toglierlo però Perfetto Perfetto L'armatura Perché finora Non c'è niente di incantato E Un po' di protezione Non fa mai male Ecco Ok Ok Perfetto Qui ovviamente Toglieremo un po' di cose Del tipo Qui Questo Va più in là Questo Si butta giù Anche qui Così è più fego Molto più fego Guardate come viene Sì 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 Viene molto più bello Poi quando cresce l'erba Siamo a posto Ok Poi Altre Scale Questo Altre Scale 4 8 16 20 Sì Credo mi basti Credo che mi bastino Tutte ste scape Vaffanculo Eh già Purtroppo quando costruisco Il video può essere un po' più noioso Degli altri Perché comunque Costruendo Si sa Un po' più noioso Magari può venire il video Ora no Merda Facciamo così Buttiamo giù E facciamo così Poi Facciamo così Sta già diventando notte Purtroppo si Ok Allora No No Deve tornare tutto normale No Che casino Ok Ok So Vai Torni Dai su Muoviti Devo andare a dormire Vabbè che potevo anche lasciarlo lì Però fa niente Sì In questo modo Ci entreranno Molti 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 Ehm 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 Scheletri Creeper Zombie E ragni Ehm Draghi E Wither Ehm Streghe E qualsiasi altra cosa In casa Quindi Forse ci faremo delle porte Oggi non riesco a parlare Basta 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 Oggi non riesco a parlare Corre Sia no Ok Andiamo avanti Con la nostra costruzione Sì sì Viene Viene bello Viene bello Fidatevi di me Che viene bello Ok Ok E qui Andiamo per così Sì 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 più o meno Dovremmo esserci Andiamo così ora No Cattivo Cattivo Ok 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 Non vedo l'ora di andare di nuovo in bici L'altro giorno sono andato Sono caduto Molto bene E non mi sono fatto niente ovviamente Io Sono una roccia proprio Una roccia Un po' Malleabile Però fa niente Fa niente Non mi sono fatto niente Sono caduto Ho fatto un salto Sono caduto Eh già Che bello fare Andare in bici E distruggersi con gli amici Bellissimo Bellissimo Ora Facciamo così Guardate Ce facciamo Oggi Il mio computer lag Può essere che magari Sto caricando un video Non lo so Sinceramente Può essere Che la RAM sia occupata Che la RAM sia occupata Forse sì Eh no Tu no Proprio Perfetto Piccone 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 Eccoci qui Eccoci qui Ok Primo lato fatto Poi Dobbiamo far questo Ok Questo Magari è più semplice da fare No Sto dicendo una cavolata Sto dicendo una cavoleita Ok Ok Uffa Non vedo l'ora che sia Natale Con la neve Andando in bici No Devo smetterla con sta bici Sì Sono fissato Se non l'avete ancora capito Io sono fissato Con le bici Non mi piace sta cosa però Quindi Dobbiamo Metterci A posto Non mi piace che c'è Sto bordo fuori Ok Così va Molto meglio Senti Togliamo Direttamente Il tronco Ok No Dobbiamo arrivare fin là Uffa Uffa Va bene Allora Ora andiamo su Andiamo su Con sta cosa Eh Sì Ok Purtroppo non ci sono i suoni E Io Veramente odio sta cosa Ma Non so Quando carico video Forse Non mi metto i suoni Ma non so perché Così Perché li gira Di far così Perché è ovviamente Molto normale Far così Se non l'avete ancora capito Perché ho messo il blocco lì Normale Boh Non lo so Ok ora Andiamo su per di qua Non so se viene bene È proprio una Cosa Molto Sperimentale Possiamo dire Perfetto Quindi Lì Dobbiamo mettere terra O qualcos'altro Ok E qui magari Cominciamo a fare un bordo di foglie Non lo so Ok Dobbiamo vedere come è rimasto Allora Qui mettiamo magari un po' di terra Che ne dite Che ne dite Allora No Ok Più o meno Sì Diciamo che è venuto già meglio Poi Vediamo come si sale Se è abbastanza bello Non lo voglio questo Proprio Per niente Ok Proprio voglio Complet No Mi si è rotto il piccone Super potente Ma ne avevo già un altro Io sono forte Io sono forte Ok Andiamo avanti Per la nostra strada Sì A me piace Sì sì Guardate che figo Arrivo su Poi qui facciamo Un molo Un molo Un molo Ora Cesoi In mano E spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Tante belle foglie Credo che questo albero sia di quercia Credo Basta fare così Basta fare così Foglie di quercia No Io le voglio di giungla Di albero della giungla Vabbè No Ecco Vabbè spacchiamo qua Dato che ci siamo Sì Spacchiamo Oddio Poveraccio Ok Perché Perché Non mi lascia Io voglio questo Ok Non ci basteranno Però fa niente Ne abbiamo già un po' Ora Dobbiamo tornare su In qualche modo Ce la faremo Spero Di qui No Di qui Sì E si scoprì Che la mappa Di minecraft Era un parkour Yeah Ok Oggi Cioè questo video Sta diventando noioso Sì Lo devo ammettere Me ne sto accorgendo Anch'io Non dovete dirmelo Però purtroppo Eh Bisogna Fare anche video noiosi No Assolutamente no Però E così Ci sono alcuni video Cioè io quando costruisco Sono così Eh Non so cosa farci Perché devo pensare A cosa costruire E fare Tutte le altre cose Questo non lo voglio Aspetta Ho sentito un suono No Perfetto Non ce la faccio più Magari qui Ok Partito tutto Ok Ok No Lo faremo in pietra Anche sto pezzo Almeno fino a qua Ora 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 Dobbiamo fare una cosa Fighissima Ovvero questa Di Prenderle cose qua Posare questo Posare questo Posare questo Posare questo 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 qui E andar giù Di nuovo Andiamo giù E Metterle torce Allora Guardate che Figata sta cosa Mi piace un casino Metterle così Come appunto Fa BW Praticamente Sto copiando tutto Perché Vabbè Io La cosa La cosa De copiare Quelli che Dicono Copi Copi Sinceramente Faccio Quel che voglio Suoni Vi sentite Vi sentite I suoni Vai Così Perfetto Si entugiano Zombie Ok Va bene Va bene Meno male Che li sento Se no Quello zombie Mi poteva prendere Di dietro E mi uccideva Quindi il vostro Caro dummy Non c'era più Eh Eh già Eh già Eh già Eh già Che bello Che figata E qui Facciamo poi Un porto Eh Cioè Sto usando il piccone Non si distrugge Guardate Spacco un blocco E non mi dai la barra verde No aspettate Proviamo con la Con un pezzo di pietra Perfetto No Però Dopo tre blocchi Che ho rotto Si è visto Quindi Guardo da quanto Sto registrando Mi dispiace Sono arrivati Solo i suoni Ora Però Non so cosa farci